La nuova aula consigliare di Palazzo Mainenti, sede del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sita Vallo della Lucania, sarà intitolata al compianto Professor Giuseppe Tarallo, già Presidente del Parco. La decisione arriva dal Presidente del Parco, Tommaso Pellegrino, e dal Consiglio Direttivo Tutto. La cerimonia di intitolazione si terrà il giorno 10 giugno alle ore 16 nell'ambito del Consiglio Direttivo. Giuseppe Tarallo ha lasciato la Comunità del Cilento lo scorso mese di marzo. Ricordiamo il suo attaccamento al Cilento e l'impegno per il territorio a difesa dell'ambiente, in particolare contro l'abusivismo, la speculazione edilizia e gli interessi della criminalità organizzata.